ok questa è la ripresenzione di una lezione che pubblicai alcuni anni fa sulle scale in modi delle scale diatroniche e che è stata molto apprezzata e dimostra quanto sia semplice imparare qualsiasi tipo di scala qualsiasi tipo di modo sulla chitarra allora di base nella chitarra in qualsiasi strumento abbiamo qualche chiamata scala diatronica facciamo un esempio partendo dal sol la, si, do, re, mi, fa per tornare al sol la sola rotta superiore ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o sulla testa cosa sulla basso sulla alto una scala maggiore allora esiste oltre alla scala diatronica nel mondo della pitale, nel mondo della musica in generale una scala che è chiamata pentatonica cioè che è composta da 5 note Ad esempio in La è una scala sempre minore, chi dice che è una scala minore e maggiore dice una grandissima cagata, è una scala sempre minore, esiste solo un tipo di scala pentatonica e minore. Ad esempio, in caso della minore la scala è La, Do, Re, Mi, Sol e poi soniamo a La. Ok, questa scala, diciamo così per comodità, è stata trasportata dalle americane all'altro oceano in quello che viene chiamato il metodo case. case system oppure il metodo del pentatonic box. Che cosa vuol dire questo? che semplicemente queste note sono state prese, sono state ripetute diverse parti, diverse sezioni del manico e della chitarra, sempre utilizzando il concetto della scala diatonica. 1, 2, 3, Na, 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 Sol, Na, Si, No, Re, Mi, per creare delle altre forme di scala pentatonica che possono essere considerate anche maggiori o possono essere resi maggiore, adesso spiegherò meglio. In realtà semplicemente questo nella musica non si chiamano box della scala pentatonica, non si chiamano cage system che non chiamano gli americani, sono semplicemente gli arpeggi di accordi, come funziona, abbiamo messo la minora che abbiamo la scala pentatonica classica. Già accordi sarebbero praticamente o il sol prima della giusto. Quindi americani hanno trovato primo box. Secondo box della scala pentatonica. Poi un La. E l'ho chiamato il secondo box della scala pentatonica. Poi un La. L'hanno chiamato il terzo box della scala pentatonica. Poi avrò il Do perché non ho alterazioni, quindi scusate il Re perché non ho alterazioni, quindi non passo dal Si al Do dove c'è. Passo dal Re, avrò la quarta scala pentatonica e poi passo dal Re al Mi. Cosa semplicissima. Chiamiamoli un po' come si vuole, solamente per la realtà che questi sono arpeggi di accordi. Perché sto dicendo questo? Perché per comprendere i diversi modi della chitarra e per comprendere il funzionamento delle scale lungo il manico della chitarra, conoscere gli arpeggi di accordi è estremamente importante. Perché da una formazione abbastanza solida per capire come le scale si sviluppano sul mare. Se noi andiamo ad aggiungere le alterazioni, cioè i passaggi della scala diatonica dove si trova un semitono, cioè Si e Do, Tra Mi e Fa, andiamo ad ottenere scale che hanno sette note e andiamo ad ottenere sette scale invece che 5. Perché? Perché abbiamo aggiunto questi intervalli che all'interno delle scale sono sempre di un semitono. Quindi andando a prendere il primo arpeggio al primo box della scala pentatonica. Ok, chiamiamolo così, giusto per dare il piacere alle persone di quanti vanno a chiamare i box o page sister e andiamo ad aggiungere le note che mancano. Quindi le note a distanza, non di un semitono, ma di un semitono, le alterazioni, otteniamo questa scala. che non è altro che non è altro che la scala di son maggiore di cui stavamo parlando prima. Andiamo a prendere il secondo box della scala pentatonica, andiamo ad aggiungere le alterazioni, otteniamo questa scala. Seconda scala, maggiore o minore lungo il mare. Andiamo a prendere questo box della scala pentatonica, aggiungiamo le note che mancano, quelle che sono state omesse, otteniamo la seconda scala maggiore o minore. lungo il manico. Se andiamo a prendere il quarto box della scala pentatonica, aggiungiamo le note che mancano, otteniamo la quarta scala pentatonica, la quarta scala diatonica. maggiore o minore lungo il manico. Quindi il quinto box della scala pentatonica e andiamo ad aggiungere le alterazioni nuovamente che sono state omesse, otteniamo, scusate, la quinta scala maggiore. o minore o minore. Perché maggiore o minore? Perché ogni accordo ha una relativa minore. In corrispondenza ad un fa diesis abbiamo un accordo maggiore e un accordo minore. questo accordo viene chiamato questa nota, questo grado viene chiamato relativa minore. quindi partendo da questo concetto, se io ho la mia scala di no, ok? quindi parta sonale. ok. fino a poi già tutta la prima scala. dopo di che passa l'ottava superiore. avrò una scala maggiore. Che cosa succede se io, su questa scala, faccio che partire dalla nota sol, una terza miore, quindi quattro tasti indietro. dalla nota di mi, suono una scala minore. sol, la, si, do, re, mi. quindi qua dentro ho una scala maggiore, una scala minore. ok? se vogliamo vedere meglio ancora. detto questo, anche sulla seconda scala che abbiamo trovato, partendo da questa forza, poi non è niente altro che questa riteggiatura. posso avere una scala maggiore, sarà quella partendo dalla nota fondamentale. scala maggiore. e potrò avere la fa diesis, scala fa diesis. potrò avere una scala maggiore. 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 minore. e questo vale per tutte le scale che possiamo costruire su cinque posizioni. maggiore. o minore. per vederla in modo più semplice. a partiremo al prossimo, al secondo grado. sol minore. quindi usando la pentatonica standard. così è più facile da vedere. ok. o la pentatonica. o una scala minore naturale. oppure sempre una terza minore. quattro tasti. o la scala maggiore. passiamo alla seconda parte. questo qua. partiamo da questa nota. ho la scala maggiore. partiamo da questa nota. ho la scala minore. concetto. semplice. ricordandosi che sulla chitarra è la chitarra uno strumento estremamente visibile. una grande opportunità di trovare le diverse ottave. generalmente per suonare una scala ci basta conoscere le noti che ne costituiscono la prima ottava. diamo una ditteggiatura estesa. questo è il secondo concetto. questo abbiamo già visto. da qua. ok. chiaramente. fino a qua. tutta l'estensione. scale maggiore. minore. andiamo a scala di do. di solo. scusate. ok. siamo all'ottare superiore. giusto. abbiamo fatto sempre una scala di solo. all'ottare superiore. e abbiamo fatto una scala di solo. lungo tutto il manico. scala minore naturale. scala minore naturale. scala armonica. scusate. questo ci permette di suonare una scala su tutto il manico. tutta l'estensione del manico. tutta le tre oltare e le metà in mezzo. cosa vuol dire? praticamente non abbiamo limiti. individuate le prime sette note della scala. la possiamo ripetere. lungo tutto il manico. o dalla partita da PM Stri B. semplicemente sapendo dove si trova la nostra ripartenza, prendo il concetto realmente visivo e semplice a capire, se prendo una scala maggiore, guardate, sono esattamente sul solo, quindi mi basta ripartire. Dalla nota in cui sono arrivato, l'unico accorgimento che tra sole e si abbiamo un intervallo di terza e quindi le note che suoniamo sulla terza corda, il re, vanno per simmetria spostate. Un tasto avanti per compensare, questo proprio se vogliamo utilizzare soltanto un metodo visivo, comunque siamo arrivati di nuovo al stesso posto, arrivati qua per chiudere, basta contare, 1, la nota su cui sei, 2, 3, conti, 3 tasti compreso quello che è suonato, e chiudi a scala, stessa cosa per gli arpeggi. Maggiore. 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 grado, terzo grado, quinto grado, sesto grado, sesto grado, sesto grado, settimo grado, ottava, ogni grado ha una propria caratteristica, il primo è maggiore, il secondo è minore, il terzo è minore, il quarto è maggiore, il quinto è maggiore, che è maggiore dominante, alla quinta bemolle, il quinto grado, che faccio ricordare così, il sesto grado, minore, il settimo grado, sesto grado, sesto grado, sesto grado, ritorniamo all'altro di partenza, quindi a sol, maggiore, per questa caratteristica, maggiore, minore, minore, maggiore, 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 minore, sesto grado, maggiore, 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 maggiore Ad ogni grado corrisponde una scala differente, maggiore o minore. Il grado è maggiore, naturalmente la scala è maggiore, il grado è minore, la scala è minore. Per questo sono stati generati in modi ionico, odorico, frigio, lirio, miglioridio, olio, loco. E' estremamente banale imparare a suonare. Il primo modo è il dorico, è il modo maggiore, fondamentale. Sto facendo 8 noti perché arrivo all'ottava. Noi quando conosciamo questa figura, normalmente, possiamo costruire il modo su tutto il manico. Secondo modo, quindi, là, stiamo parlando semplicemente della stessa scala che parte da una nota differente, dorico. Ok, dopo che so questo, posso ripetere la scala. Ok, dopo che so questo, posso ripetere la scala. Non ho contato l'ottava, scusate. Lo posso riportare sotto la tavola nel manico. E ho il modo dorico, esteso per tutto il manico. Modo fresa, stessa colla. L'importante è che impari le note fino ad arrivare alla nota di provenienza, cioè alla fondamentale. e la notizia colla. A un modo frenzioso. Un'ottava di farmi. A un'ottava di farmi. E poi, non è piacere, non è piacere. e quando improvvisa non è tanto di pensare in modo escale, ma cercare di dare il significato, non so, all'interno di un'improfessione in burro. Grazie per la visione! Già questo è di per sé una frase Lidia, ma cercare lo spazio all'interno della struttura e degli strumenti con cui stia suonando, una salbatterista, un chitarrista, un altro chitarrista... E non tanto pensare alle scale, pensare a come esprimere al meglio quello che si vuole dire, un po' come se stesse cantando... Non so, passare all'interno della struttura... ... 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 avete tutto quello che vi sarebbero poter suonare in qualsiasi stile e in qualsiasi contesto e vi auguro il meglio divertite studiate gli accordi anche importantissimi anche imparate gli accordi gli accordi che serve di più cheers guys ladies and gentlemen more and are she is